Musica Benvenuti amici sportivi, bordo campo Lega Pro, questa sera parleremo della terza giornata di campionato della partenza sprint del Frosinone al Ceravolo di Catanzaro, però a nulla è servita per questa squadra dei giallazzurri un po' di intermittenza che parte bene, poi si spegne, poi si riaccende, ma il pressing finale non ha portato il risultato sperato e allora parleremo di tutto questo con Marco Gabriele, buonasera e benvenuto. Ciao Aurora, buonasera a tutti. Con Mario Bucilli. Buonasera. Il Frosione Calcio, udite udite, ci ha inviato il tesserato, però non è un tesserato qualsiasi, cioè non ci ha mandato il calciatore, ci ha mandato il responsabile operativo, ovvero il direttore generale Ernesto Salvini, che espluà direttore, grazie. Sì, volendo posso essere anche sezionato, mi lasciate per le altre puntare, almeno quattro ce ne vengono. Grazie per la sua presenza e grazie per la tua presenza anche Giovanni Giuliani, io so che avevi un impegno questa sera, però sei voluto essere qui lo stesso, volevi andare a gufare la Juventus di persona, però non ci sei riuscito. Comunque ci stai riuscendo telepaticamente. Non diciamo. Scriveteci al 331 12 45 625, 331 12 45 625 e poi scriveteci anche su Twitter, chiocciolate l'Universo TV oppure utilizzando l'hashtag Bordocampo Lega Pro. Io ho parlato di questo Frosione Intermittenza, sei d'accordo? Ma intanto ben venga una sconfitta adesso e non una fase più calda del campionato, in un momento più cruciale, in un momento nel quale ancora ci sono più motivi, più giustificazioni per la squadra e per l'allenatore. Quindi credo che è nelle regole del gioco e nella durata del campionato, meglio ora che non più avanti, quando speriamo che il Frosione sia protagonista e occupi una posizione che sicuramente le compete. Direttore, una sconfitta ci può stare alla terza giornata? Ci può e probabilmente ci deve stare, perché tanto prima o poi sarebbe arrivata. E probabilmente l'analisi di Marco è ottima, nel senso che comunque quando vengono all'inizio danno sempre la possibilità di migliorarsi. Quando magari invece si va su una falsariga e si continua a fare risultati non avendo trovato la soluzione giusta di squadra, magari si rischia di fare come la scorsa stagione che è andata bene finché è andata e poi evidentemente c'erano delle lagune che non siamo riusciti a colmare. E allora come ogni martedì vediamo la scheda a cura del nostro Giovanni Giuliani che appunto ripercorre tutti i temi della giornata del capo del Frosino a Catanzaro. 20 minuti colpiglio giusto, pochi spunti per larghi tratti del match e un buon forcing finale che non ha portato però al pari. Si può racchiudere così la gara persa dal Frosinone a Catanzaro. I canarini, dopo 5 risultati utili di fila, conoscono il primo stop di questa stagione. Il campionato è ricco di insidie ed il match del Ceravolo lo ha dimostrato. Rispetto alle prime due precedenti uscite, i ragazzi di Stellone questa volta hanno avuto un impatto diverso, creando pericoli in avvio alla Porta Calabrese, salvo poi arretrare pericolosamente tra la seconda metà del primo tempo e l'inizio del secondo. Cosa emerge dal K.O.? Anche se la partenza è stata buona, per la terza volta consecutiva, così come è accaduto con Ascoli e Pisa, il Frosinone è andato sotto dopo la prima mezz'ora. Questione fisica o mentale, su questo bisognerà riflettere anche perché non sempre si riesce a mettere una toppa. Va detto però che il Frosinone di Schanz per raddrizzare le sorti del match ne ha avute due uomini di Stellone. Sono stati poco concreti sotto porta anche per merito di un Bindi in grande spolpero. Quando Stellone dice che ai punti non meritavano di perdere la ragione, anche perché di parate vere e proprie Zappino ne ha dovute compiere ben poche. Fatto sta che nel calcio però ha ragione chi fa gol ed il Frosinone non l'ha fatto. In questione modulo, il 4-3-3 di partenza con Corriale schierato a sinistra non ha convinto molti. L'impressione è che l'attaccante siciliano rischi di perdere di incisività giocando l'arco. A centrocampo inoltre è mancato l'uomo in grado di dare qualità e cambiare passo al momento giusto. Una sconfitta comunque dopo cinque risultati utili ci può stare. Non è certo il caso di fare drammi, anche perché le potenzialità ed il lavoro svolto da staff e società in estate si sono già intravisti. Certo è che c'è ancora da lavorare per dare al Frosinone quel quid in più per recitare il ruolo da primattore in questo campionato, un ruolo che tutti si aspettano. Allora Ernesto, Giovanni fa un'analisi a 360 gradi, però un conto secondo me è vedere la partita dalla televisione. Tu ieri eri a Catanzaro. 20 minuti di predominio del Frosinone. Ma è stata premiata la tattica tendista del Catanzaro e quindi poi hanno preso il campo o la squadra di Stellone ha dovuto retrocedere per far aprire un pochino di più il Catanzaro e a quel punto non ha trovato più la penetrazione? È premesso che il servizio è ottimamente fatto, nel senso che rispecchia quello che effettivamente è stato l'andamento della gara, che diversamente dalle altre due partite di campionato ha avuto una involuzione invece che un'evoluzione, nel senso che abbiamo cominciato le altre due partite con l'Ascoli e con il Pisano in maniera eccellente e poi ci siamo ripresi via via. In questo caso invece avevamo cominciato in modo direi eccellente perché in quei 17 minuti io ho visto una squadra importante, ho avuto la sensazione di vedere all'opera una squadra con una struttura importante e con un giocatore importante. Anche presuntuosa. Poi l'ho detto per scherzo ma non ho una spiegazione scientifica da dare, è come se avesse piovuto un'acqua contaminata e ci ha fatto diventare improvvisamente dei conigli bagnati che hanno commesso degli errori che erano impensabili rispetto, viste le altre prestazioni precedenti e visti i primi 17 minuti. Quello che effettivamente può essere successo non lo so, posso dare una spiegazione da ex allenatore che effettivamente quando si dice che ci vuole ben poco per cambiare le sorti di una squadra basta che nel momento tuo importante perdere palla una volta, permetti all'avversario di conquistare quei 10 metri che poi gli consentono da prendere in mano le retini del gioco, contrariamente a quanto era avvenuto fino a quel momento. Devo dire che se questa era una prova di maturità effettivamente è stata fallita. ma io non ricordo, almeno carriera mia, non ricordo mai di aver ottenuto risultati importanti senza avere dei problemi iniziali e credo che al di là del discorso mio e del Frosinone spesso e volentieri succede che alla fine le squadre che hanno avuto maggiori difficoltà iniziali proprio perché, che ne so, hanno più scelta di calciatori e quindi bisogna trovare la formazione giusta hanno più varianti a livello di qualità e di caratteristiche per cui bisogna trovare il modulo giusto per tanti motivi, per una serie di motivi che ci stanno, spesso accade che chi parte male alla fine inizia bene. Non siamo partiti male perché non cancelliamo le prestazioni maiuscole che sono state fatte con il Modena e con il Cagliari. E' chiaro che dobbiamo, probabilmente ci siamo vestiti di un abito troppo di lusso per la categoria adesso ci dobbiamo spogliare di quell'abito, diventare un pochettino più pratici, diventare un pochettino più più cinici sotto certi punti di vista e dimostrare, di aver capito bene dopo due anni che questa è una categoria dove probabilmente la spada è più utile del Fioretto. Però hai parlato di lusso e allora a me viene in mente che un giocatore come Sodimo per questa categoria è un lusso e ieri Sodimo non c'era. Secondo me l'importanza della squadra di quest'anno è proprio che teoricamente dovrebbe poter fare a meno tranquillamente di Sodimo perché ha alternative valide. Secondo me questa è una squadra che oltre ad essere composta da giocatori importanti hanno anche come caratteristica non di secondo piano questi giocatori la tuttilità nelle posizioni e ruoli che ne so, Sodimo può tranquillamente giocare in due ruoli in attacco e due di centrocampo Ciofani, Matteo può ricoprire praticamente tutti e quattro i ruoli della difesa per fare soltanto due esempi per capire il concetto. Quindi io ritengo che non ci sia da far drammi assolutamente perché sono cose che capitano e è importante, lo ribadisco, il concetto che dicevi tu all'inizio che è meglio che avvengano subito determinate situazioni e si capiscono subito determinati difetti perché hai tutto il tempo materiale per poterli correggere e per poi riuscire a fare lo sprint finale perché quest'anno è chiaro che il girone è diviso in due squadre, quelle che sono costrette a correre e quelle che seppure stanno ferme non succede niente, chiaramente il Frosinone è tra quelle che sono costrette a correre, chiaramente ha nel DNA indubbiamente la facoltà di arrivare nelle prime nove però lo sprint si può fare per due obiettivi, il primo è quello di riuscire ad arrivare prima degli altri e il secondo è quello di riuscire ad arrivare nella posizione più alta rispetto agli altri e per fare questo secondo me tempo materiale anche per commettere leggerezza ed errori come sono stati commessi domenica ce n'è. C'è tempo Mario Bucilli? A che cosa? C'è tempo per emergere? Perché abbiamo tanti esempi poi in Lega Pro, abbiamo squadroni come Lecce che poi ti cade in tre giornate, è già l'allenatore in bilico. C'è tempo anche perché per una squadra che perde la terza di campionato non è un dramma però io voglio analizzare questa scobbitta nel senso che i primi 20 minuti il Frosinone l'ha dominato, non vorrei che questi 20 minuti ingosciamente ai giocatori gli ha dato quella cosa di dire tanto qua ce la facciamo è facile, hanno abbassato un po' la guardia e a quel punto lì è uscito il Catanzaro, però il Frosinone poi ha preso un gol incredibile perché non si può prendere un gol con una punizione da metà campo dritta per dritta con sette giocatori in linea fermi e questo qui addirittura la colpisce di piatto interno all'altezza del 3 metà portiere, questo è un errore grossolano. Mario Buccini almeno avrebbe fatto un fallo da rigore una difesa schierata non può far sì, almeno si pensa che i difensori siano tutti un 84-85 compresi il portiere, non si può far cadere un grosso da 50 metri a 3 metri dal portiere e un attaccato, un difensore, non so chi ha fatto gol, di piattone a metterla dentro questo è un errore proprio di concentrazione, di attenzione dopodiché la sconfitta si può rimediare però forse non era questa la partita che tutti quanti pensassero che il Fusinotto potesse perdere perché affrontava una squadra meno blasonata sì, anche perché questi 20 minuti però io ribatto sempre dal presupposto non voglio fare una critica a nessuno perché non è il mio costumo però se si mette curiale giocare esterno con un 4-3-3 secondo me è un suicidio per il ragazzo perché il ragazzo in quel ruolo non la prenderà mai e poi mai questo è nato per fare gol e deve fare la seconda punta altrimenti si fa fatica con 4-3-3 lo puoi schierare ma senza curiale questo è il mio punto di vista quindi sei d'accordo questa sera con Giovanni Giuliani? perché che ha detto Giovanni Giuliani? Giovanni Giuliani l'ha detto ah l'ha detto perché curiale forse in quella posizione no perché mi ha chiamato a me prima di fare il servizio io ho detto che non può penalizzare hai preso indicazioni no ma questo è sempre un pensiero nostro che viviamo o non viviamo giornalmente alla preparazione della squadra per l'amor di Dio però con le caratteristiche di curiale io però posso dire una cosa non lo faccio dire a Salvini me lo dico io perché credo che sia sotto gli occhi di tutti non lo dico perché faccio parte c'è un'intelligenza comune agli altri tifosi del Fosinone che hanno seguito la campagna acquisti credo che Stellone se non ha gessa e soddimo a disposizione la squadra la formazione che ha in testa che hanno pensato che hanno studiato e costruito durante il pre-campionato ancora non la sferra però io non voglio contraddire Marco però il direttore ha detto prima che hanno messo a disposizione del mister dell'allenatore un organico di tutto rispetto al di là di chi manca o non manca che ci sono delle alternative valide quindi chi sta contraddicendo rispondi a Fucilli che questa è 1-0 secondo me le alternative le alternative a Jess e a Soddimo ci sono con tutto il rispetto per le alternative ma non hanno quella valenza ma molto probabilmente Jess qui bisogna spezzare una lancia a fuori di stiamo molto probabilmente non ha ancora una condizione è certo Jess è entrato al 40esimo del secondo tempo per giocare in 90 minuti è un giocatore di tutto rispetto grande esperienza grande giocatore però forse ancora non ha un'autonomia per giocare dall'inizio ricordiamo che è arrivato anche gli ultimi sei giorni io credo anche che va aggiunta una cosa ma non voglio giustificare nessuno perché non ce n'è bisogno rispetto a una partita che è terminata con un gol forse due occasioni per il Catanzaro ma con un portiere che nel secondo tempo Ernesto è stato migliore in campo no? assolutamente praticamente l'azione dove ha fatto l'intervento migliore è praticamente la sensazione con cui abbiamo pareggiato a Pisa se ci fai di caso stesso protagonista stessa posizione stessa dinamica soltanto che Bindi ha avuto la prontezza e qua credo che il mister possa esserci più d'aiuto distinto di parlare col gomito credo sì insomma a testimonianza della validità del professionista quindi vince Giovanni Giuliani che la scheda è perfetta nell'analisi Giovanni tu l'hai detto nella scheda però convieni con me che questa sconfitta secondo me ne abbiamo parlato abbastanza da archiviare subito credo e spero che sia in dolore perché l'hai detto tu siamo solo alla terza giornata c'è tutto il tempo per rifarsi io prendo i lati positivi cioè ripartire dai primi 20 minuti nel quale Frosilone ha giocato veramente secondo me da grande squadra creando tanti pericoli nel quale 20 minuti nel quale si è visto un buon Aurelio secondo me un Frosilone che ha giocato col pilo della grande squadra poi qualcosa comunque è successo anche perché quindi ti sono piaciute anche le scelte di Stellone che ha cambiato sia in difesa mediana e in attacco a me non sono dispiaciuto anche lo stesso Salto Belli non mi è dispiaciuto comunque nell'arco della partita ovviamente le assenze erano pesanti però secondo me si è disimpegnato parere mio ovviamente è opinabile però si è disimpegnato abbastanza bene Aurelio comunque ha giocato ha giocato a Sprazzi e qualcosa ha fatto ha fatto vedere io però credo direttore dinamiche ovviamente diverse però da che cosa dipende il fatto che dopo 30 minuti in tre partite il Frosilone va sempre sotto è una questione è un puro caso è una questione di mentalità di condizione non credo perché comunque 20 minuti le ha giocate alla grande è chiaro che quando c'è una resa maestà di fronte all'avversario possono essere tanti motivi compresi anche la condizione ma come giustamente ha segnalato prima il mister il gol che è stato preso non è colpa né di settami tattici né di condizione dell'allenatore è colpa di una disattenzione che chiaramente deve essere annullata ecco perché prima dicevo perché probabilmente cercate di seguirmi perché c'è una cosa che forse lascia un po' perplessi però c'è ragionamento vediamo probabilmente ti devi guadagnare la presenza i primi 17 minuti hanno molto ma hanno molto richiamato le partite di Coppa Italia dove c'era un avversario che chiaramente ti lasciava giocare di più perché è chiaro che essendo categorie superiori probabilmente il grado di disattenzione in quel caso era il loro era l'avversario tu giocavi di Fioretto sapendo che avevi di fronte il tuo invece di grado di attenzione era nettamente superiore quindi probabilmente se al posto del Catanzaro ci fosse stato il Modena probabilmente quei 17 minuti sarebbero durati di più e avremmo fatto più bella figura il problema è che in questo campionato bisogna sì dare spettacolo perché la gente non ha bisogno solo di vittorie ma anche di divertirsi però bisogna farlo con razionalità e soprattutto bisogna andare in campo con le munizioni giuste per affrontare quel tipo di categoria e questo credo che sia il primo il primo segnale su cui dobbiamo soffermarci tutti quanti noi della società allenatore compreso cioè nel verificare inizialmente se come come mentalità abbiamo capito che ogni domenica di fronte noi abbiamo gente che deve guadagnarsi il pane per sopravvivere perché a Frosinone si sta bene ci sono altre tre o quattro piazze in cui si sta bene come a Frosinone ma gli altri da Pagnotto se la devono guadagnare e se la guadagnano attraverso la cattiveria attraverso la grinta attraverso l'agonismo è anche un campionato sui generis dove non si sa quello che si andrà incontro che non si sapeva insomma sin dall'inizio purtroppo questo è chiaro come tutti i campionati che che precedono una rivoluzione è chiaro che presenterà via via delle difficoltà che sono extra calcistiche faccio un esempio stupido allora tutti quanti tutte quante le società tranne 2-3 che proprio hanno giocato risparmio massimo secondo me anche quelle meno accreditate col fatto che comunque i playoff arrivano fino alla nona posizione secondo me faranno tutto un girone d'andata nella speranza di poter rimanere più attaccati possibile a quel gruppone poi ci saranno quelle squadre che probabilmente si renderanno conto nelle ultime 7-8-10 partite del campionato che ormai non hanno più velleità non dovendo far punti per salvarsi a quel punto mi domando la regolarità del campionato da chi sarà salvaguardata ecco perché è indispensabile è vero non far drambi per una sconfitta che arriva nelle prime tre giornate ma è indispensabile far più punti possibili perché mentre la competizione nei campionati precedenti era destinata ad esserci fino alla fine perché c'era anche il discorso dei play out in questa occasione la competizione ci sarà soltanto tra quelle tra le prime dieci che lotteranno per i primi nove posti le altre saranno delle meteore allora se quelle meteore che non hanno niente da perdere si affrontano in maniera superficiale lì ci si può mettere però nonostante i miei trascorsi e quindi la malignità che dovrei avere come ce l'hai tu io invece ti faccio un'altra domanda secondo me l'incognita la stiamo facendo a tutti gli ospiti di quest'anno sarà anche il fatto che la nona rispetto alla quintultima se andiamo a prendere la classifica dell'anno scorso iniziano ad esserci sei punti di differenza quindi entrare nella nona potrebbe salvaguardare la competitività quello che io invece ritengo sia una grande incognita e mi viene l'occhio sulla classifica è quello che faranno in campo le squadre perché vedere che il Ponte D'Era è primo in classifica ha fatto 9 golle e ne ha subito 5 mi fa pensare e quindi poi vorrei un parere tuo che noi vedremo delle squadre che se se l'Aquila va a Lecce e vince 1-0 non si chiude come avrebbe fatto lo scorso anno per portare a casa 3 punti barra 1 sicuro continua a giocare a viso aperto perché tanto se ne fa 0 comunque non retrocede questa sarà un'incognita molto grande rispetto al fatto che avremo avversari che in casa saranno quelle minori che però verranno a giocare non chiusi in difesa e che giocheranno non fa una piega il discorso che fai tu e che non cozza comunque con quello che ho detto io prima perché questo succederà finché ad esempio l'Aquila visto che l'hai nominata andrà a Lecce sapendo che con un punto non arriva a fare i playoff con 3 punti sì e quindi invece di chiudersi e portarsi a casa il pareggio magari deve per forza di cose portare a casa la vittoria ma parliamo dell'Aquila che in quel momento sta ancora in quelle condizioni ma qui ci sono squadre che se le andiamo a vedere ringraziando Dio ci ha avuto la Lega l'intelligenza di mettere un limite anche a ribasso perché se no secondo me ci sarebbero stati i presidenti che avrebbero fatto le squadre con gli allievi regionali andiamo a leggere qualche messaggio dei nostri telespettatori mi dicono dalla regia che sono prontissimi e sono veramente tanti ecco intanto il numero 331 12 45 625 direttore secondo lei non ci alleniamo troppo poco? solo allenamento al giorno dopo le partite di Coppa Italia quattro giorni di stop in piena preparazione ma sta scritto tutto l'anno scorso sarà un giocatore in pausa di campionato o durante la pausa natalizia più tempo a casa che sul campo grazie Paolo ci scrive ha segnato tutto Paolo ma forse l'anno scorso ma anche per colpa delle tantissime pause che ci sono state perché ogni tre settimane c'era c'era un turno di riposo forse l'anno scorso abbiamo abbiamo fatto troppe pause ma quest'anno se facciamo i conti sta squadra si è allenata anche il giorno di ferragosto il 13 è andata a fare il 13 d'agosto è andata a fare un amichevole a Belletri gli allenamenti uno al giorno sono predisposti praticamente tranne che un giorno a settimana che è il mercoledì in cui spesso ci sarà la doppia seduta ma come credo l'abbiano predisposti la maggior parte delle squadre nel senso che non credo che neanche in Serie A si allenino più di un giorno due volte con due sedute al giorno quindi tutto sommato questo no e poi io sono sempre stato dell'idea che non è la quantità del tempo che uno sta sul campo ma è la qualità la qualità di quello che fa che conta c'è una bambina di 8 anni tifosa del Frosione Giulia D'Ambrosio la saluto grazie per averci scritto quasi 9 quasi 9 si ha scritto hai ragione ma allora andiamo a vedere tutti i gol della terza giornata di campionato nel girone B di prima divisione Gli stregoni del Benevento ipnotizzano un lecce oramai sull'orlo di una crisi di nervi ed in cerca di un nuovo allenatore al Ciro Vigorito è subito monologo per la squadra di Carboni al 31esimo Mancosu lascia partire un rasoterra che Peruchini riesce solo a sfiorare al 44esimo il gol che porta la firma del bomber indiscusso Felice Evacuo nella ripresa è Mengoni a realizzare il terzo gol per i Sanniti al 26esimo la punizione perfetta di Capitan Miccoli resterà semplicemente il gol della bandiera per i Salentini al 28esimo Evacuo viene agganciato in aria da Vainetò il calcio di rigore è evidente e lo specialista giallorosso lo trasforma in gol per il 4-1 finale terza sconfitta per il Lecce che però non detiene da solo questo primato condividendolo con la Paganese Blitz dell'Ascoli in Campania che vince grazie alla rete di Tripoli nella sfida fraterna tra Giovanni e Dino Pagliari allenatori rispettivamente di Aquila e Pisa a spuntarla è Dino i Nerazzurri realizzano il gol della vittoria grazie al solito arma che tira in diagonale dolcemente ma la palla passa sotto le gambe del portiere abruzzese Testa non basta il gol di Ginestra alla Salernitana per battere il Gubbio al decimo Briganti ferma con la mano un tiro cross dell'attaccante Granata dal dischetto Ginestra non sbaglia al 32esimo la reazione Umbria con Moroni che di Testa trafigge la porta difesa dal Ciociaro Iannarilli seconda partita in casa e secondo K.O. per il Barletta di Orlandi questa volta ad Opera del Prato che vince per 2-0 grazie alle reti di Tiboni al 31esimo della prima frazione di gioco e di Corvesi al 38esimo terzo pareggio di fila della Nocerina che in casa non riesce ad andare oltre l'1-1 contro il Grosseto dopo 4 minuti vantaggio degli ospiti con Asante al 16esimo del secondo tempo i Molossi pareggiano i conti con Lepore 2-2 termina tra Ponte d'Era e Via Reggio a dare il benvenuto agli ospiti ci pensa Righini che siglano Torete e dal 44esimo c'è Devena per il doppio vantaggio del Via Reggio comincia la ripresa ed il Ponte d'Era non ci sta così prima Pastore e poi D'Agostino recuperano il risultato per il 2-2 finale Ernesto Nocerina e Lecce le delusioni delle prime tre giornate Lecce e Pris Lecce sì la Nocerina no? perché fa parte di quella schiera di cui parlavamo la squadra di giovani che non aveva da chiedere parlavamo prima no insomma non è proprio così però diciamo che rispetto rispetto ai progetti e ai programmi dello scorso anno la Nocerina ha di molto abbassato si è ridimensionata non ha fatto un mercato idilliaco come le altre indubbiamente il Lecce il Lecce secondo me secondo me ho rivisto ho rivisto adesso le immagini stavamo vedendo che effettivamente non ha non ha subito un gol su azione probabilmente non ha visto le partite per intero quindi faccio una previsione molto azzardata però se per esempio avesse preso quattro gol così e non avesse subito altre azioni io fossi il presidente del Lecce Moriero del Rey perché più sfortunati e più la incontro del Frusinone con Morieri secondo me è un discorso egoistico direttore perché dopo la terza giornata secondo me invece il padron tesoro dovrebbe dire ciao no sbaglierebbe perché io per esempio non riuscirei a giudicare il lavoro da un allenatore dopo una partite del genere cioè dopo due paperate del portiere e io l'altro non ho visto vedo questa due paperate del portiere quattro gol di cui nessuno su azione quindi non si può non manco di che abbia lavorato male in fase difensiva perché parliamo della punizione del calcio di rigore del romperlata da 30 metri però lei è un uomo di mercato che ha visto il mercato che hanno fatto la Lecce quindi appunto dico se ci hanno un po' allora partiamo dal presupposto che è chiaro che alla fine tu puoi prendere chi vuoi ma in campo sempre 11 ne puoi mandare quindi se ce n'hai altri 20 più forti di quegli 11 ma sempre 11 sono poi è chiaro che giocatori importanti tipo piccoli non saranno neanche semplicissimi da gestire però è difficile è difficile allora premetto che secondo me Moriero non si è rimbambito di un colpo perché le qualità ce le ha sempre avute noi ne sappiamo quindi io ritengo che il Lecce non è assolutamente da tenere come esclusa perché ha i mezzi per poter fare io vorrei ricordarvi anche per quello che dicevamo prima l'esempio dello Spezia di due anni fa una squadra che fino al girone era andata alla nona cambiò l'allenatore la nona di campionato e ha fatto un cammino impressionante contrariamente il Trapani che era partito da primo classifica dalla quarta giornata in poi alla fine ha perso l'ultima giornata il primato e non è riuscito neanche a salire quindi possiamo commentare perché è dovere vostro o nostro commentare ma è troppo presto per poter trarre delle conclusioni sia per chi sta facendo troppo bene e sia per chi sta facendo troppo male allora abbiamo due episodi di Moviola e il primo riguarda proprio Benevento Lecce è ininfluente ai fini del risultato è il rigore concesso ad Evacuo guardate qui c'è il controllo di esterno destro da parte di Evacuo Mario che naturalmente non non fa assolutamente un controllo che gli avrebbe poi permesso di rigiocare il pallone perché se andiamo avanti guardate quanto schizza poi c'è questo tocco che io sinceramente forse un po' sulla gamba sinistra dietro si toccano si toccano appena Evacuo lì forse ha visto che il pallone era andato lontano lui ha fatto lo stop sembrava un tiro in porta andava via non è proprio magari l'arbitro è vicino però è messo bene non avrà sentito anche il rumore per cui si è dato il rigore fortunatamente era ininfluente perché secondo me lascia un pochino il tempo che trovo invece c'è il secondo episodio che è in Salernitana Gubbio cross da parte dell'attaccante della Salernitana e il giocatore del Gubbio chiaramente allargando il braccio e non per proteggere certo il viso Ernesto questo è il rigore sacrosanto quindi speriamo che anche al Frosinone visto che sia la Salernitana che sono convinto anche il Lecce come il Benevento saranno le nostre più dirette concorrenti capitano in occasioni tipo il gol fatto dal Pisa perché insomma a noi con tutte le occasioni che c'erano state nel secondo tempo di ieri Giovanni e il Frosinone avrebbero potuto raccogliere magari anche qualcosa dalla buona sorte assolutamente forse fra le tre partite è stata quella nel quale ha avuto più occasioni perché comunque lo diceva prima il direttore Bindi ha fatto due o tre interventi davvero nadevoli non per caso è stato forse il migliore in campo direttore il portiere del Catanzaro secondo me davvero questa volta il Frosinone come numero di occasioni ha creato di più rispetto rispetto alle altre volte questo è un buon sintomo però di contro c'è da sottolineare che se non la metti dentro ma pensa quando giocheremo con il 4-4-2 quanti gol farà a proposito del 4-4-2 ci sono i nostri dei spettatori che chiedono proprio al direttore se Stellone cambierà modulo io in 26 anni ho sempre ottenuto risultati quando li ho ottenuti perché c'era massima fiducia nei confronti del tecnico perché la fiducia o c'è o non c'è la via di mezzo non esiste lui li allena lui ha le capacità e l'intelligenza giusta per capire se questa è la strada da perseguire oppure no io non esprimo giudizi perché è chiaro che esprimendo giudizi lo metterei in difficoltà non lo farò nella maniera più assoluta confido molto nella sua intelligenza e ripeto come ho detto all'inizio queste partite queste prestazioni più o meno brillanti questi risultati un po' altalenanti se ci devono essere devono essere sezionati e valutati correttamente perché da quelli si deve prendere lo spunto per correggere gli eventuali difetti che possono essere difetti di modulo difetti di impostazione difetti di caratteristiche sbagliate per cui magari il giocatore sta più o meno lontano della sua posizione però lei già si è fatto un'idea di quale eh ma me la tengo per me lo so ma no ma il direttore io ci provo sempre il direttore già l'ha detto di conseguenza che questo sistema di gioco molto probabilmente quello è l'organico del Frosinone noi si addice alle caratteristiche di questa squadra questa è una squadra che secondo me con l'organico che ha a disposizione e l'ha dimostrata anche nella seconda parte a Pisa può fare un 4-4-2 tranquillamente perché ripeto avere Ciofani e sfruttarlo solo con gli lanci da 30 metri a fare da sponda non serve a niente Ciofani è un giocatore che deve andare sul fondo e mettere la palla dentro o anche crossare e fare gol Curiale farlo giocare all'esterno non serve a nulla allora bisogna mettere Curiale insieme a Ciofani a fare un 4-4-2 perché c'hai due esterni molto bravi a saltare l'uomo creando superiorità numerica possono andare sul fondo e crossare di conseguenza per far sì che sia Ciofani e Curiale possono avere tranquillamente possono chiudere il campionato a doppia cifra tutti e due perché hanno le capacità per farlo un'altra cosa vi siete dimenticati di dire prima che in questo campionato c'è anche una sosta una squadra riposa domenicamente questo può volevamo che la dicessi tu aspettami no perché qui già riposate grandi squadre sono riposate domenica tocca al Benevento poi questo riposo Perugia, Salernitano Perugia, Salernitano e Benevento sembra fatta apposta insomma come dire riposate tanto voi arriverete mi auguro di no no Mario non facciamo questi messaggi io invece volevo chiederti come stanno comportando gli arbitri visto che ogni martedì vediamo con te la Moviola come stanno comportando fino a questo momento io credo che anche gli arbitri stiano prendendo la forma giusta la forma necessaria per affrontare partite che diventeranno poi volevo aggiungere un'altra cosa vedo molti gol per un'impreparazione però per queste difese hanno grandissime difficili Mario dovremmo fare tutti quanti un corso portieri scarsi a proposito di grandi gol io con Ernesto Salvini ci siamo ma che in Serie A gli ho fatto i complimenti il giorno della presentazione di Ciofani gli ho detto sono certo che quest'anno grazie anche alla presenza di Ciofani davanti Frara che abbiamo visto giocare proprio a ridosso delle punte secondo me avrà l'occasione di segnare 10 gol è anche questa una variabile importante che potrà avere perché Frara è un giocatore importante però è un giocatore di centro-sinistra che si allarga sempre sulla fascia di conseguenza è molto bravo in questo però con 4-4-2 Frara farebbe meglio a stare più indegnato al centro-campo perché i centrocambisti del Frosinone sono tutti bravi ma sono ciclici nel senso hanno tutto lo stesso passo non hai un giocatore che possa cambiare base lì in mezzo tu c'hai sugli esterni dove c'è un uno contro uno che saltando le va in superità numerica di conseguenza mettendo il pallone in mezzo può creare delle grandissime difficoltà ma poi il giorno che è stato presentato Ciofa di tutti sognavano perché era arrivato finalmente a Frosinone il bomber dei sogni di tutti e tu pensavi a Frara che poteva fare il giocatore No, era un'arma in più No, è un'arma in più perché è un'importante lo avevamo sentito Vediamo intanto i risultati e classifica di questa terza giornata così li commentiamo proprio tutti insieme e vediamo di alcune sorprese Barletta-Prato 0-2 Benevento-Lecce 4-1 Catanzaro-Frosinone 1-0 Gubbio-Salernitana 1-1 L'Aquila-Pisa 0-1 Nocerina-Grosseto 1-1 Paganese-Ascoli 0-1 Ponte della Via Reggio 2-2 Ha ripostato il Perugia Allora, vediamo la classifica che incomincia un po' un pochino a delinearti poco poco anche perché lì su quel Ponte d'Era fa un po' strano direttore vedere il Ponte d'Era lì su? Non tanto perché poi anche in Serie A è capitato che chi poi magari retrocessa nelle prime tre giornate stava prima in classifica quindi la scheggia impazzita c'è sempre Invece Giovanni Giuliani qual è secondo te la squadra rivelazione fino adesso? Potrebbe essere il Ponte d'Era che come ho detto lunedì scorso però sarà destinato a crollare miseramente se no perché non c'ha le potenze miseramente e il Ponte d'Era 5 quindi se continuano per il resto il Benevento era annunciato tra le favorite sta lì sopra quindi la sorpresa negativa solo il Lecce ovviamente perché il Grosseto non è che si era tanto favorito mister questo Lecce riemerge secondo te? Ma io sono convinto che sia Lascoli il Grosseto e il Lecce riemergeranno senz'altro anche Lascoli tu ci metti? Sì sì ci metto anche Lascoli perché è partita in ritardo sta facendo ancora fatto adesso gli ultimi innesti hanno una preparazione molto approssimativa è una piazza molto importante sono convinto che in mezzo ai nove ci può stare pure loro fino alla fine Quindi il vero il vero campionato inizieremo a leggerlo metà novembre Ma io penso che a dicembre ci sarà la svolta per quanto riguarda sia il mercato sia come dicevo giustamente il direttore di tante squadre che non possono più chiedere niente al campionato che facciano la propria parte fino alla fine ma a dicembre sarà la svolta del campionato E allora su questa questa considerazione di Mario Ernesto mi viene da chiederti che 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 mercato sarà poi cioè fate le considerazioni che abbiamo detto prima che non si retrocede che comunque Ritorneranno sul mercato le società Cosa prevedete voi operatori che pensare succederà? No ma le previsioni le facciamo a ogni sessione e devo dire che non solo vengono azzeccate in pieno ma pure peggio di quello che uno prevede Perché ormai sono solo in negativo negli ultimi tre ma d'altronde solo in negativo però in prima divisione hanno fatto alcune squadre un mercato faraonico ci metto anche Frosinone Sì mercato con molta fantasia perché noi abbiamo fatto un paio di operazioni dove devo dire è stato bravo il direttore sportivo ad inventarsele perché comunque questo è un momento dove il denaro non fa più la differenza ma per il semplice fatto che non c'era più nessuno neanche le carte di credito sono virtuali e quindi bisogna darsi da fare con con l'intelletto e allora con l'intelletto le conoscenze la scaltrezza però effettivamente anche il fatto che ogni stagione che passa diminuiscono le società professionistiche questo significa che ci sono meno possibilità di fare operazioni ci sono meno difficoltà allora uno dice beh allora diminuendo ci sono più calciatori no perché perché quelli che rimangono fuori tutto sommato sono sono quelli che comunque avrebbero fatto di un target di medio o basso esatto di società che comunque avrebbero fatto un campionato per riuscire ad arrivare a fare i play out quindi non possono essere chiaramente utili a chi invece fa campionati campionati da vertice però effettivamente è un drama l'anno scorso questo no no l'anno scorso il Frosinone faceva un campionato molto importante lo stesso che ha un organo però giocavano anche volevano fare un'apertura ai ragazzi e lì c'era già Frabotta l'anno scorso e c'era Gori che hanno fatto già esperienza l'anno scorso quest'anno vedo che fanno fatica a giocare dall'inizio con un anno in più di esperienza Gori ha giocato la prima di campionato Sì Frabotta ha giocato con il Modena ha giocato con il Cagliari ha giocato col Pisa praticamente ha giocato sempre tra l'anno e domenica scorsa però ci sono pure gli altri no dico ma quando uno viene da prestazione positiva un ragazzo metterlo fuori si può anche perdere questo questo indubbiamente però senza entrare in merito perché ripeto lo diceva guardi è chiaro è chiaro che il primo a dispiacersi quando non vengono messi in campo sono io perché è chiaro che per me sono pezzi di cuore ragazzi però credo pure credo pure che quando una società ha fatto un progetto abbastanza importante e la rosa che ha costruito è una rosa che consente molte alternative dobbiamo fare il discorso al contrario cioè dobbiamo dire che effettivamente è stato fatto un bel lavoro perché perché Frabotta che l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato che ha giocato in Coppa Italia contro il Cagliari in maniera in maniera strepitosa alla fine non gioca perché comunque la società ha messo a disposizione dell'allenatore un altro giocatore altresì importante e parliamo di uno che insomma l'anno scorso c'era la Serie B Mario ha introdotto il discorso giovani però io continuo visto che abbiamo la tua presenza a voler sviscerare un pochino quello che è stata questa innovazione che naturalmente vedremo poi realizzata il prossimo anno non c'è il rischio Ernesto che invece scendano molti giocatori dalla Serie B e dalla Serie A in Lega Pro visto che ci saranno solo tre gironi magari potrebbero riprendere una quotazione tecnicamente più valida perché ormai tanto in Serie A in Serie B giovano solo stranieri sì oddio è un rischio a seconda della parte di come si guarda perché sicuramente per lo spettacolo il rischio se si devono pagare prezzi alti per voi società però sì innanzitutto spero che ci sia qualcun altro a dove combatte questo rischio perché sinceramente non vedo l'ora da andarmene via da questa categoria ma perché anche noi perché un altro messaggio direttore no voglio dire se no avevamo fatto come la Paganese voglio dire quindi non è subliminare è proprio malese malese perché perché anche anche questo fatto che che devi partecipare a riunioni di Lega in cui in cui tu che hai la fortuna di avere un presidente che ci mette del suo che ci crede una piazza che è chiaramente esigente e quindi devi fare un certo tipo di lavoro quasi quasi per l'80% delle altre società quello strano sei tu cioè perché adesso ci rovina la piazza perché sì perché perché io mai sono stato solidare con lo Tito come nell'ultima assemblea di Lega perché gliel'hanno letta di tutti i colori però i tifosi gli hanno tirato pure le bombe calda ma al di là dei tifosi no parlavo dei dirigenti delle altre società perché a un certo punto uno ha anche detto ma che te l'ha ordinato il dottore di fare il presidente ora siccome io ritengo che il presidente della società di calcio debba essere uno che comunque tra virgolette se lo deve e se lo può permettere io non so se è più se è più fuori ruolo un presidente come lo Tito che giustamente quel giorno diceva ma io come faccio a far giocare i giovani e a far passare il messaggio che non ho l'obbligo di riuscire a vincere il campionato io sono costretto a far certi acquisti a far giocare e nel piccolo anche il frosinone tutto sommato sta nelle stesse condizioni allora io al contrario dico ma se il presidente del calcio per antonomasia è uno che si può permettere di farlo probabilmente saranno fuori luogo l'altro 80% che se uno deve fare il presidente dovendo fare le squadre in un determinato modo per riuscire a chiudere il campionato con gli incentivi che dà la Lega per l'impiego con i giovani qualche cosa di anomalo comunque comunque c'è e io spesso mi trovo mi trovo a dire che la soddisfazione che ho avuto io da da solo responsabile ancora responsabile del settore giovanile nel vedere giocare i giocatori cresciuti da noi non perché corrispondevano a un incasso ma perché effettivamente cresciuti in quel momento erano bravi quantomeno quanto quelli grandi e quindi giocavano perché lo meritavano non perché esse doveva far cassa ecco io credo che questa soddisfazione che ci siamo tolti noi non se la può togliere nessun'altra società che punta che punta al minutaggio facendo con ulteriore considerazione che probabilmente quelli che riescono ad emergere da noi con la competitività che c'è probabilmente potranno continuare a fare i cacciatori professionisti vedi Eder vedi Lodi quelli invece che giocano perché rientrano in un conteggio chissà se una volta che escono fuori come età abbiano poi la capacità di potersi affermare Giovanni che succede? no no quello volevo dire al direttore che praticamente ha detto una cosa sacrosanta che i giocatori giovani vanno fatti giocare perché sono bravi non per il minutaggio altrimenti queste società non avranno mai una prospettiva non avranno mai un futuro perché quelli che giocano per il minutaggio sono giocatori che l'anno prossimo tutti quanti sono dimenticati che giocare in quella categoria vediamo anche qualche altro messaggio intanto vediamo anche il prossimo turno con la schermata che ci manda il nostro Claudio Iadecola per la quarta giornata di campionato Ascoli L'Aquila Frosinone Barletta Grosseto Perugia Lecce Catanzaro Pisa Nocerina Prato Gubbio Salernitana Ponte Dera Via Reggio Paganese riposerà il Benevento un avversario da non sottovalutare il Barletta a questo punto direttore una squadra giovane che è rimasta gran parte quella dello scorso anno dove ci sono due ex come Lamantia e Vaccarecci presi a titolo definitivo dalla società Biancorossa quest'estate quindi la posizione non deve deficitare in classifica non deve destabilizzare No anche prima di tutto perché comunque Barletta è stata una piazza anche storica che negli anni Ottanta ha fatto la sede B e anche con una certa continuità e probabilmente il tifoso del Barletta non si rende conto che quest'anno la la strategia della società sicuramente non è quella di due anni fa dove hanno hanno fatto un'ottima squadra e hanno investito molto e quindi sento che ci sono state feroci contestazioni e quindi sicuramente la squadra in questo momento avrà una responsabilità maggiore e una rabbia maggiore perché è chiaro che non è piacevole doversi allenare con la pressante e continua contestazione e quindi questa sicuramente sarà una una marcia in più che avrà che avrà a disposizione il Barletta d'altro canto noi perché è chiaro che mi riconduco sempre al discorso iniziale se vogliamo avere una mentalità da grande squadra dobbiamo prendere molto più sul serio questi impegni piuttosto che l'impegno con la società blasonata perché comunque l'impegno con la società blasonata gli stimoli te li crea naturalmente e invece gli abbassamenti di pressione non bisogna averli quando affronti squadre come questa Mario tu ti sei fatto già un'idea del Barletta di quest'anno di mister Orlandi? ha detto giustamente il direttore se il Frosinone vuole giustamente recitare ruoli importanti queste sono partite da vincere il Barletta facendo tutto scongiuto è l'unica squadra mi sembra che ancora non ha fatto gol non ha fatto gol e ne ha subito tre se il Frosinone penso che sulla carta il Frosinone ripeto vuole essere protagonista queste partite deve vincere però sono d'accordo con il direttore queste sono le partite più difficili da interpretare nel senso il giocatore deve trovare con le motivazioni che forse con il Perugia o con il Benevento o con un'altra squadra abbrasonata le motivazioni vengono da sé Giovanni? da vincere senza sé e senza ma senza fare troppi discorsi perché il Frosinone squadra da vertice non può non deve si attuare ovviamente il Barletta però deve vincere per forza tre punti sono fondamentali perché anche un altro mezzo passo falso creerebbe qualche qualche problemino quindi senza sé e senza ma solamente da vincere un po' drastico Giovanni Giuliani direttore senza sé senza ma realistico molto realistico assolutamente perché se vuoi competere per le posizioni di vertice come ci sta dicendo il nostro direttore come sappiamo da quest'estate non può essere questo impegno in casa a frenare le ambizioni del Frosinone lo ripetiamo non devi sottovalutare nessuno questo è vero però scusami Giovanni fiducia a Stellone ma è ora che decida la formazione titolare Sandro 65 poi ringrazio Didi Anagni fiducia a Stellone ma non siamo da prime posizioni vero direttore no come fa il direttore non siamo da prime posizioni ha fatto il mercato stava vedendo la Juventus direttore perché non vediamo mai i giocatori del Frosinone ospiti in questa trasmissione che ha assist che mi ha fatto questo telespettivo questa è la scritta da sola dalla regia i calciatori bravi si vedono quando riescono a bucare la porta avversaria non cerchiamo scusanti Bindi fa il portiere e lo fa con il massimo impegno ma che vogliamo giocare a porta vuota per gli avversari però abbiamo detto che il Frosinone è stato poco polemici questa sera non sono sempre polemici poi il direttore non ci vande il giocatore se fate così no no il direttore visto che non ha risposto lo dico io ci siamo non risponde perché se avessi avuto la situazione no no d'aver dato d'aver dato d'aver detto questo no 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 sono stato io che ho detto che Bindi è stato il migliore in campo probabilmente a quello si riferivano invece per quanto riguarda i tesserari quindi i giocatori del Frosinone speriamo anche Stellone e speriamo anche altri dirigenti sicuramente da senza dare troppi fastidi compatibilmente con gli impegni poi è diplomatico Marco ne vedremo che diplomazia meno male che siamo in chiusura direttore sta facendo la parte perché lui non è così diplomatico chiaramente lei lo sa ecco e allora siamo ex arbitro quando sta in campo si comporta in un modo quando sta fuori adesso l'ambito e il mestiere è quello del del conduttore e quindi si comporta da conduttore da conduttore ex arbitro però allora siamo in chiusura noi vi ringraziamo come sempre per averci fatto compagnia grazie a Mario Buccelli Mario tu che partita andrai a vedere? Frosinone Barletta sicuro Frosinone Barletta perché so che vai anche serie B serie A le vedi tutte qua i tuoi ragazzi quindi tantissime io ringrazio ancora il direttore Ernesto Salvini grazie per la sua presenza direttore speriamo di rivederla presto qui nei nostri studi grazie Giovanni Giuliani quanto ha perso la Juventus perché è colpa di Giuliani se sta perdendo la Juventus sappiate tutti che è colpa di Giovanni Giuliani no uno a uno mi dico Giovanni non ce l'hai fatta non ce l'hai fatta e allora noi ci vediamo martedì prossimo Marco buonanotte a tutti ci vediamo martedì sempre alle 21 e 15 ora mi raccomando non cambiate canale perché c'è Bordocampo Sari e dico Roberto Sardelli ciao ci vediamo martedì prossimo ciao